Sono molto contenta di presentarvi Mauro Di Domenico, fantastico chitarrista, amico di lunghissima data e nostro ospite questa sera che ci racconterà... che farai stasera? Stasera che farò? Dunque no, sono qui per celebrare il grande Ennio Ricone, il nostro grande Ennio e quindi quale posto migliore in questo contesto, assolutamente mi sembra giustissima la cornice sono felice di essere qua, non so di averte riprovato gli altri amici e quindi contento di essere qui con voi, faremo sicuramente una bella cosa stasera, sarà una bella serata dove regnerà la musica, risuolerà la musica del grande Ennio, ripercorreremo i momenti più salienti della sua carriera ma dici perché questo? Perché c'è stata la fortuna, la buona solita di avere un rapporto diretto con lui un rapporto soprattutto da amico, ecco, dove ho pubblicato un libro dove io narro 27 anni di vita privata cioè dei rapporti con Ennio, non quelli diciamo in vetrina ufficiali, non c'è stato nessun filtro c'è stato un agente, un'agenzia o qualcuno, siamo stati io e lui, quasi come si dice, quasi in ciabatte in frutta e ciabatte a casa, due amici che si vedono, che però con il rispetto e il rigore che ogni volta che ho, mi sono confrontato con lui, ho rispettato assolutamente sempre fino agli ultimi giorni della sua presenza su questa terra, perché per me è in doce essere grazie